Noi riteniamo che la legge 28, che è questa legge approvata in fretta e furia verso la fine della legislatura, sia una legge demolitiva rispetto al servizio sanitario toscano. Addirittura demolitiva? Siamo molto preoccupati perché l'idea di risparmio in sanità, così come è concepito, che è quasi esclusivamente un risparmio a carico della linea di produzione, cioè a carico dell'assistenza, è una linea che a noi non convince per niente. Il servizio sanitario toscano, che è stato per anni un'eccellenza, andava premiato e non punito. Quindi in questo senso noi riteniamo che questa riforma vada proprio in questa direzione. Non è tagliando servizi che si risolve il problema degli sprechi, ma è semplicemente identificando altri punti di possibilità di ridurre la spesa. E sono gli sprechi, non i servizi. E quindi con questo referendum cosa chiedete? La propagazione della legge e il ritorno al vecchio regime, diciamo così? Assolutamente sì. Questa legge prevede addirittura una concentrazione di potere su pochissime figure di nomina politica. Il Movimento 5 Stelle è sempre stato contrario all'idea dei partiti all'interno della sanità. Figuriamoci se è accettabile questo tipo di riforma. Tutti gli studi internazionali di tipo scientifico hanno dimostrato, tutti, diciamo 112 su 118, c'è una recentemente review internazionale sugli accorpamenti, hanno dimostrato che questi accorpamenti non generano risparmio e non generano miglioramento dei servizi. Nella maggior parte dei casi le cose peggiorano. Quindi concentrare il potere su questi tre superdirettori, che è un po' la politica di Nembo Kid, di Rossi, ci piace poco tra superpresidi, superdirettori, supersindaci, si corre davvero il rischio di allontanarsi dalla gente, voglio ricordare che al di là delle buone intenzioni che ci sono anche nella legge regionale sulla democrazia partecipata, diciamo che questa legge niente ha avuto a che fare con una vera e propria partecipazione degli operatori, delle associazioni, dei molati eccetera.